Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con il primo video delle tre, visto che ve l'avevo promesso, insomma, che avrei fatto una serie di resoconti su quello che sarebbe successo e oggi cominciamo subito per parlare di quello che è accaduto ieri, ovviamente li farò a distanza di 24 ore, altrimenti divento pazzo anche perché, insomma, come ben sapete alcuni si svolgono in orari abbastanza nefasti e terribili. Detto questo, passiamo subito al dunque perché, insomma, vorrei andare abbastanza rapido, visto che di cose da dire ce ne sono veramente tante. Tutto ha avuto inizio ieri con Electronic Arts, una conferenza quella di Electronic Arts che nel complesso ha fatto debuttare bene questo E3 nonostante appunto si trattasse di un primo EA Play, quindi un primo evento distaccato dall'E3 in quanto manifestazione generale e devo dire che l'inizio di Electronic Arts non è stato affatto male, sebbene, come poi abbia detto su Facebook, sia stata una conferenza un po' all'insegna dello scontato del prevedibile. Electronic Arts non ha stupito in alcun modo, realmente, ma ha semplicemente proposto quello che un po' tutti ci aspettavamo perché c'è stato un grandissimo e bel reveal, come si deve, di Titanfall 2, che avrà una campagna single player per la prima volta per cui ci sarà un po' di carne al fuoco per tutti, non solamente per gli appassionati di multiplayer online e devo dire che quello è stato un po' uno dei punti più alti dell'intera conferenza. Al di là di quello, diciamo che la cosa più bella, forse, in assoluto, che Electronic Arts ha mostrato è stato FIFA 17. FIFA 17 che è stato occupato da un sacco di bellissime promesse, come sempre succede non tutte probabilmente verranno mantenute, ma la cosa che più mi ha colpito e che sicuramente avrà colpito anche tutti voi appassionati è sicuramente la modalità storia, questo The Journey, questa avventura nel mondo del calcio giocato che ci vedrà vestire i panni di un giocatore del tutto inedito, inesistente in un vero e proprio film interattivo a sfondo calcistico che ci vedrà giocare per una squadra di Premier League e diciamo vivere tutta la nostra carriera nella Barclays Premier League, insomma una cosa nuova, una cosa inaspettata per quanto mi riguarda, sebbene ci fossero un sacco di voci prima delle tre una cosa che mi ha colpito è che non vedo l'ora di provare anche perché sarà interessante poi portare anche la cosa sul canale, credo, quando sarà detto questo io poi ho gli appunti di lato perché qualcosina mi sono dovuto segnare se non mi scordo, Mass Effect, Mass Effect Andromeda lì ho rosicato, forte e duro, perché? Perché mi aspettavo qualcosa di più il fatto che a fine conferenza, o meglio durante la presentazione di questo nuovo capitolo abbiano detto essenzialmente che le vere grandi notizie arriveranno a fine anno mi ha fatto cascare le braccia perché per quanto bello, per quanto promettente, per quanto interessante il video del dietro le quinte non ha soddisfatto la mia sede di informazione il fatto che si sappia adesso che saremo impegnati nel trovare un nuovo luogo per l'umanità è sicuramente interessante, però volevo di più e quel di più non è arrivato per cui da questo punto di vista forse Electronic Arts ha mancato di intensità ha mancato di sorpresa, ha mancato di imprevedibilità perché appunto il fatto che il punto più alto della conferenza siano stati Titanfall 2, che già si sapeva sarebbe stato presentato e la modalità The Journey di FIFA 17 dà un po' la misura di quella che è stata la conferenza perché al di là di quello non è che ci sia stato granché a parte ovviamente, scusate, dimenticavo insomma il pezzo forte Battlefield 1 gioco sicuramente molto promettente ci porterà nella prima guerra mondiale come forse poche altre cose hanno saputo fare pochi altri giochi hanno saputo fare nel corso degli ultimi 20 anni però diciamo che di Battlefield 1 già si sapeva praticamente tutto non ci sono state tutte queste novità esclusive per gli A-Play non si sono tenuti niente di particolarmente grosso in canna per sconvolgerci, per cui altra grande presentazione ma che ha mancato di effetto sorpresa e in questo senso forse anche Bethesda si è un pochino allineata stanotte perché pure la conferenza a Bethesda è stata sicuramente buona sicuramente ricchissima di cose ma al di là del nuovo Prey è mancato anche lì un pochino l'effetto sorpresa sicuramente il fatto che abbiamo annunciato tre nuovi DLC di Fallout non può che far piacere sebbene appunto il fatto che Fallout stia diventando un pochino più sempre più simile a The Sims perché queste mille e mille espansioni sono oggettivamente un po' troppe secondo me non voglio magari bestemmiare alle orecchie di molti ma secondo me stanno un pochino camminando su quel filo sottile che divide il fanservice dalla mungitura del consumatore per cui un pochino non so ancora che cosa pensare dovrò vederli DLC per bene quel poco che hanno fatto vedere fino adesso fa sicuramente ben sperare ma sembra che Bethesda si sia buttata un po' più sulle espansioni contenutistiche a livello proprio di materiali e di cose da costruire piuttosto che sull'esaltazione della componente ruolistica di Fallout 4 che secondo me è quella che avrebbe meritato un po' più di attenzione detto questo l'annuncio di Fallout Shelter su PC è sicuramente graditissimo così come la remaster di Skyrim che un po' tutti ci aspettavamo obiettivamente che sicuramente mi permetterà finalmente di portare Skyrim sul canale con una serie vera e propria al di là di questo Dishonored 2 è bellissimo però anche lì sapevamo di doverci aspettare un miglioramento rispetto a primo Dishonored è arrivato, il gioco permette molto bene da quello che si è visto però niente di sconvolgente da farmi dire oddio lo voglio adesso oppure non me l'aspettavo quel senso del non me l'aspettavo appunto come dicevo poco fa me l'ha suscitato giusto Prey perché è un po' una rivisitazione di quello che Prey era l'hanno un po' ricostruito da zero a livello proprio concettuale e sono curiosissimo di vedere come andrà però parliamo pur sempre di un prodotto che si vedrà tra un anno se tutto va bene per cui anche da questo punto di vista forse è mancato appunto l'effetto sorpresa detto questo ragazzi io sono curiosissimo di vedere cosa accadrà oggi perché tra Microsoft, Sony, Ubisoft, la conferenza PC insomma ci sarà tanto da vedere e tanto da scoprire spero anche qualcosa di inaspettato ci sono stati un po' di leak tra cui Dead Rising 4, State of Decay 2 che avevo preventivato e di cui insomma speravo tanto arrivasse l'annuncio speriamo che insomma le cose vadano come speriamo che gli annunci non ci riservino attese interminabili per il futuro però comunque sia sembra che l'E3 sia cominciato abbastanza bene per il momento sebbene almeno per ora sembra che la manifestazione di quest'anno faccia rima appunto come dicevo su Facebook ieri con un po' di prevedibilità ad ogni modo ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate voi sono curiosissimo appunto di sapere che impressione sta facendo a voi questo E3 per il momento e incrociamo le dita per quanto riguarda i prossimi giorni noi ci vediamo domani ovviamente con un altro video di riassunto chiacchierata varia su quello che sarà successo per cui ragazzi alla prossima